Ciao amici di Milano, siamo qui dai nostri studi di Londra, la Haha Studio English presenta Elena, la estetista dei VIP e non solo. Elena, presentati ai nostri amici. Ciao amici, ciao a tutti, mi sono scaldata troppo, non vi devo l'ora di fare questa diretta per voi. Come sapete già, sono estetista dei VIP ma non solo, ho anche un Milan Club Alta Tensione 9, 2.000, 3.000 già ormai iscritti, forza Milan sempre, ricordiamo. 9 Elena? 9, Pipo Inzaghi Alta Tensione 9 con sua mitica maletta 9 che è stato sempre numero 1 e rimane sempre così, ma noi non le ammettiamo via la maletta numero 9. Continuiamo a aver fiducia di togliere la maledizione del 9. Perché adesso formiamo anche un'altra con numero 169. Perché 169? No, 169 perché il mio negozio Elena Estetica si trova al Via Ludovico il Moro 169, un numero difficile a scordare, quindi ricordate bene Via Ludovico il Moro 169. Allora vi aspettiamo tutti da Elena Estetica a Via Ludovico il Moro 169.